Gambe, addominali e glutei, allenamento senza salti con esercizi impegnativi per tonificare la zona centrale e inferiore del corpo. Supervamos! Ok, iniziamo. Mezzo squat, iniziamo subito ad attivare tutta la parte bassa e successivamente la parte alta. Scaldiamo bene il nostro corpo prima di iniziare questo super workout. Vamos! 10 secondi e passiamo alle spinte indietro. Vai! Respirazione, naso e bocca. 3, 2, 1. Cambio. Due spinte indietro. Vai! Scaldiamo bene. Su. Esercizio successivo. Discesa frontale su gamba alternata. Vai! Cambio. Un lato e poi l'altro. Ancora 3, 2, 1. Allargo le gambe. Vai! Discesa. Posso piegare leggermente il ginocchio da un lato e dall'altro. Scaldiamo bene tutto il corpo. Attiviamo parte alta, parte bassa. gambe, glutei, schiena. Inizio la respirazione. Esercizio successivo. Calciata ai glutei. Ancora. 3, 2, 1. Calciata ai glutei. Vai! Salgo. Respirazione continua. Respirazione continua. Sguardi in avanti. Postura. Ci prepariamo all'esercizio successivo. Torsione del tronco. Andiamo ad attivare il tronco. Respiro. 3, 2, 1. Vai! Torsione del tronco. Pico leggermente le gambe. Movimento controllato. Non esagerare. Vai! Lento. Attiviamo piano piano tutto il corpo. Ancora 3, 2, 1. Torsione del tronco veloce. Vai! Leggermente più veloce da un lato e dall'altro. Non forzare il movimento. Non andare troppo dietro. Respira. Esercizio successivo. Discesa fianchi al ginocchio. Ancora 3, 2, 1. Vai! Testa dritta. Discesa fianchi. Altezza. Ginocchio. Vai! Scendo. Respiro. Esercizio successivo. Torsione più tocco gomito-ginocchio alternato. 3, 2, 1. Vai! Incrocio da un lato e poi dall'altro. Respiro. Salgo bene con le ginocchia. Incrocio gomito-ginocchio opposto. Vai! 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 3, 2, 1. Cambio. Mobilizzazione della colonna. Vai! In arco e in curvo. In arco e in curvo. Vai! Bel riscaldamento. Bel allenamento. Vamos! Respiro. Ancora 3, 2, 1. Appertura e braccia dietro. Vai! Seguo il movimento del braccio dietro. Non forzare il movimento. respira. Respira. Respirazione. Vai! Ancora 3, 2, 1. Cambio. Circonduzione delle braccia dietro. Vai! Movimento bello ampio. Attiviamo tutta la parte alta. Spalle, braccia. Vai! Esercizio successivo. Sumo squat più elevazione braccia. 3, 2, 1. Allargo le gambe. Allargo le punte. Parto dall'alto. Scendo e risalgo. Vai! Respiro. Testa dritta. Scendo. Sumo squat. Elevo le braccia. Vai! Ancora. Su. 3, 2, 1. Spostamento laterale. Vai! Da un lato. E salgo. Solo da una parte. E poi cambiamo lato. Vai! Apro la punta in fuori. Mantengo la respirazione. Respiro. Ancora. 3, 2, 1. Cambio lato. Vai! Dall'altra parte. Sempre respirazione. Attiviamo anche le braccia nel movimento. Vai! su. Su. Respira. Respira. 3, 2, 1. Ok. Iniziamo il nostro super workout. Prendiamo i nostri pesetti e partiamo subito con a fondo indietro con i pesi. Fondo indietro alternato. Respiro. Ci mettiamo in posizione. 3, 2, 1. Vai! A fondo indietro. Alternato. Respiro. Braccia tese. Attiviamo gambe e glutei. Vai! Respiro. Respiro. Ancora. Vai! 20 secondi. Ginocchio sfiora il pavimento ma non tocca. Controllo l'equilibrio. Ancora qualche secondo. Vai! 3, 2, 1. Recuperativo. Goblet squat con peso al petto. Avviciniamo i pesi. Altezza petto. Allargo le gambe. 3, 2, 1. Vai! Goblet squat. Scendo e salgo. Controllo il movimento. Respiro. Non mi fermo. Vai! Vai! Non ti fermare fino alla fine dei secondi. Goblet squat. Respiro. Naso e bocca. Vai! Vai! 10 secondi. Non ti fermare. Su! Vamos! 3, 2, 1. Recuperativo. Scendiamo a terra. Plank. Gomito. Ginocchio. Andiamo giù. Braccia in linea con le spalle. 3, 2, 1. Salgo in posizione. Gomito. Ginocchio. Vai! Prima da una parte e poi dall'altra. Respiro. Addome contratto. separo bene i movimenti. Isometria. Nel plank. Avvicino il ginocchio al gomito. Fino alla fine. Vai! Vai! Ancora. 3, 2, 1. Recuperativo. Rissaliamo i piedi. pesetti. E ci prepariamo all'affondo indietro. Peso sulle spalle. 3, 2, 1. Vai! Peso sulle spalle. E affondo indietro. Respiro. Controllo il movimento. manteniamo l'equilibrio. Sguardo in avanti. Vai! Vai! Respiro. Fino alla fine. Vai! Ancora. Non ti fermare. Controlla. Non andare veloce. fai lavorare bene. Gambe e glutei. 3, 2, 1. Recuperativo. Respiro. Sciolgo. Goblet squat con peso al petto. Respirazione. 3, 2, 1. Vai! Goblet squat con i pesetti. Vai! Vai! Respiro. Manteniamo il ritmo. Controlla il movimento. Vai! Gambe e glutei. Ancora. Su. Fino alla fine. Dai! 10 secondi. respiro. Respiro. Ancora. 3, 2, 1. Recuperativo. Avviciniamo il nostro tappetino. Andiamo a lavorare da terra con addominali. Isometria. Ginocchi al petto. 3, 2, 1. Vai! Allungo. Prima una gamba. E poi l'altra. Vai! Vai! Addomino contratto. Schiena ben aderente al pavimento. Vai! prima da una parte. E poi dall'altra. Testa su. Vai! Mi respiro. Fino alla fine. Non mollare. Vamos! Vai! Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Recuperativo. Ci alziamo in piedi. 2 pesetti. Per eseguire a fondo della gamba destra. Più spinte. 3, 2, 1. Vai! Gamba destra. Blocco. E vado in spinta. Vai! blocco. Blocco. Spinta. Controlo il movimento. Equilibrio. Respirazione. Blocco. E salgo. Vai! Ancora. Controlla la tecnica. Controlla l'equilibrio. Vai! 10 secondi. Non ti fermare. ancora. Vai! 3, 2, 1. Recuperativo. Sciogli. Respira. Ci prepariamo alla fondo della gamba sinistra con la spinta. Cambiamo lato. 3, 2, 1. Vai! Affondi indietro. Blocco. Salgo. Solo la gamba sinistra. vai! Vamos! Vai! Blocco. Salgo. Vai! Blocco. Salgo. Respiro. Sguardo in avanti. Non perdo l'equilibrio. Controllo bene il movimento. Vai! Ancora. Ancora. Vai! Blocco. Salgo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Recuperativo. Scendiamo a terra. Plank. Tocco dalle spalle. Andiamo in posizione. 3, 2, 1. Salgo in posizione. Mi assesto. E tocco la spalla. Destra e sinistra. Vai! Respiro. Mantengo il ritmo. Vai! Fino alla fine. Tocco. E tocco. Vai! Ancora. Qualche secondo. Vai! 3, 2, 1. Recuperativo. Rissaliamo in piedi. Piesetti. molleggio su squat. Più spinta in alto. 3, 2, 1. Vai! Molleggio. E spinta in alto. Molleggio. E spinta in alto. Vai! e respira. E respira. Vai! PAM! PAM! E spingo. PAM! PAM! E spingo. Vai! su! 3, 2, 1. Recuperativo. Go back squat. Più molleggio. Respira. 3, 2, 1. Vai! Uniamo i pesi. Goblet squat. Molleggio. E salgo. E salgo. E salgo. Vai! respiro. Respiro. Ancora. Non ti fermare. Molleggia bene giù. E risali. Vai! 10 secondi. Vamos! Dai! Su! 3, 2, 1. Recuperativo. Ponte. laterale sinistro su. Scendiamo a terra. Respirazione. 3, 2, 1. Dalla posizione salgo. E mantengo l'isometria. Braccio in linea con la spalla. Mano sul fianco. Mi aiuto con l'altra mano se perdo l'equilibrio. Rimango in posizione e respiro. Mantieni l'isometria. Fino alla fine attiviamo questa zona. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Scendo piano piano. Rissali. Prendiamo un pesetto per eseguire all'affondo indietro. Alternato più torsione. 3, 2, 1. Vai! Affondo indietro. Blocco. Torsione. Affondo indietro. Blocco. Torsione. Lavoriamo sia a destra che a sinistra. Vai! La torsione è sulla gamba opposta all'affondo. Vai! Controllo bene il movimento. Vai! Blocco. Torsione. Blocco. Torsione. Vai! Ancora. 3, 2, 1. Affondo indietro. Più. Spinte. In alto. A martello. Teniamo i pesi in questa posizione. 3, 2, 1. Vai! Affondo indietro. Spinte. Cambio gamba. Affondo indietro. Spinte. Vai! controllo il movimento. Adome forte. Sguardo in avanti. Tecnica. Equilibrio. Vai! Vai! Fino alla fine. Respira. Controlla bene il movimento. Vai! Ancora. Ancora. 3, 2, 1. recupero attivo. Scendiamo a terra per eseguire il ponte laterale. Sulla destra abbiamo ora posizione. Braccio in linea con la spalla. Salgo. Mi assesto e mantengo la posizione. Approfitto per respirare. Respiro. Resisti. Utilizza questo braccio per migliorare la stabilità e l'equilibrio e anche per il supporto. Se perdi stabilità. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Recupero attivo. Rissaliamo. Goblet squat con peso al petto. respiro. Respiro. 3, 2, 1. Vai! Posizione. Goblet squat con il peso. Vai! respiro. Respiro. Sempre posizione tecnica. Sguardo in avanti. Spiro con il naso. Spiro con la bocca. Vai! 20 secondi. Fino alla fine. Vai! Respiro. 10 secondi. Vai! ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Squatsumo. Solo un pesetto. Allarghiamo bene bene le gambe. Le punte. 3, 2, 1. Vai! Scendo piano e salvo piano. Scendo piano e salvo piano. Vai! respiro. Respiro. Mantengo il ritmo. Non mi fermo. Vai! Su! Attiviamo gambe, glutei. Con lo squat sumo attiviamo anche l'interno coscia. Vai! respiro. Ancora. Ancora. 3, 2, 1. Pausa. Esercizio successivo. Squat più spinta. Peso da un lato. Allargo le gambe. Allargo il braccio. Scendo e spinta in alto. Vai! iniziamo da un lato. Poi scendiamo a terra. Poi risaliamo in piedi e andiamo a farlo dall'altra parte. Vai! Naso. Bocca. Naso. Bocca. Vai! respirazione. Ritmo. Controllo bene la tecnica. Vai! Ancora 10 secondi. Respiro. Ancora. 3, 2, 1. Scendiamo a terra. Crunch gambe a 90. Schiena ben aderente. respiro. 3, 2, 1. Salgo con le gambe. Stacco solo la prima parte della schiena e vado a toccare dove arrivo e torno. Vai! attiviamo l'addome. Respiro. Mantengo il ritmo. Vai! Su. 15 secondi. Ancora. Ancora. Vai! Butto fuori l'aria quando salgo. Bocca. 3, 2, 1. Recupero attivo. risaliamo in piedi. Squat più spinta dall'altro lato. Andiamo in posizione. Largo il braccio. 3, 2, 1. Vai! Scendo. E spingo. Respirazione. Ritmo. Vai! Ancora. Ancora. Vai! Ancora. Vai! 15 secondi. Non inarcare la schiena. Sguardo in avanti. Equilibrio. Vai! Vai! 3, 2, 1. Recupero attivo. Scendiamo a terra. Plank. Sollevamento braccio. Solo destro. Iso. 3, 2, 1. Salgo. Mantengo la posizione. Braccio destro. E torno. E torno. respiro. Braccio in linea con le spalle. Vai! Solo destro. Respira. Ancora. Fino alla fine. Vai! Vai! Ancora. Resisti. 3, 2, 1. Recupero attivo. Saliamo in piedi. Squat. Più spinta in alto. Respiro. 3, 2, 1. Vai! Largo le gambe. Squat. E spinta in alto. Vai! Controlo il movimento. Non andare troppo veloce. Facciamo lavorare bene tutta la parte bassa e la parte alta. Vai! Respira. Vai! Fino alla fine. Su. Vai! Vai! 3, 2, 1. Recupero attivo. Scendiamo ancora a terra. Sollevamento del braccio sinistro ora. Posizione plank. 3, 2, 1. Salgo in posizione. Mantengo la posizione isometria. Salgo col braccio sinistro. E torno. Stabilizzo. Vai! Stabilizzo. Ancora. Fino alla fine. Vai! Con me. Fino alla fine. Vai! Vamos! Su. Vai! Ancora. 3, 2, 1. Pausa. Siamo arrivati alla fase di... Di stretching. Iniziamo con la divaricata frontale. 3, 2, 1. Scendo piano piano frontalmente. Senza forzare. Allargo le gambe. Dove arrivo. Mantengo la posizione. Respiro. Senza forzare. Non serve andare oltre la propria elasticità. La guadagneremo col tempo. 3, 2, 1. Allungamento laterale. Scendo da un lato. Punta su. Se riesco vado a prendere la punta. Altrimenti mi fermo a questa altezza. O anche qua. Mantengo la posizione di stretching. Respiro. Mi raccomando non saltare mai la fase di stretching finale. 3, 2, 1. Cambio. Da altra parte. Posizione. Aiutati bene con le mani a stabilizzare. L'allungamento serve a migliorare la propria elasticità. E aiuta a defaticare e allungare il muscolo. Fondamentale per un recupero ottimale. 3, 2, 1. Da questa posizione possiamo scendere subito in quadrupedia ed attivare la mobilizzazione della colonna. Vai. Con la respirazione. Lento e controllato. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Torsione tronco. Faccio in avanti. Scendo sotto. Senza forzare il movimento. Mantengo la posizione. E respiro. 10 secondi. E poi cambiamo lato. 3, 2, 1. Risalgo. Braccio in avanti. Torsione. Allungo ancora un pochino il braccio in avanti. Appoggio la spalla se riesco. Rimango in posizione. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Risalgo piano piano. Scendo completamente. Mani altezza al tetto. E andiamo in cobra. Non forzare il movimento. Parte alta su. Parte bassa giù. Mantengo la posizione. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Scarico della colonna da terra. Volute sui talloni. Vado indietro piano piano piano. Braccia dietro. Scarico la testa. Scarico le spalle. Respiro. Mantengo la posizione. Non forzare. 5, 4, 3, 2, 1. Risalgo lentamente. E ci siamo. Il tuo allenamento è finito. Ci vediamo al prossimo allenamento. Sempre in forma con FixFit. Condividi i nostri video. Vamos! Buon wallow. Buonics Most 오� fuels. Buon disino. Passport confer enfrento. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito.